Mi chiamava dalle paloni. I locali lì non ci vanno. Sono infette o chissà che. Ehi! Vieni qui! Dai, sali! Non puoi andare a casa a guardare la tv come gli altri. Mi sono ispirata a una serie di crimini avvenuti in Texas nel 1969. Mi ha molto colpito, ma soprattutto volevo dare voce alle vittime, a chi non c'era più. Perché un assassino mutilerebbe la vittima dopo averla uccisa? Immagino per mandare un messaggio. 911, qual è la sua emergenza? Altrimentatemi, un uomo è entrato in casa! Non volevo raccontare solo la storia di una o di un'altra di loro, ma il dramma che tutte quante hanno subito, e questa vicenda l'ho trasformata in un film di genere. Questi sono i posti in cui erano gli altri corpi. Brian, qui, vieni! Forza, veloci! E se non riuscissi a fermare neanche questo? Qual è stato il suo rapporto con Michael Mann rispetto a questo film? Insomma, tutti apprezziamo il suo cinema e quindi per lei com'è andata? È stato positivo averlo come produttore, perché è anche un grande regista. Non è stato sempre sul set, aveva altro da fare, ma mi è stato di grande aiuto in alcuni momenti con la sua visione autoriale e il suo impegno nella ricerca visiva e di emozioni vere. Ma lo ha fatto da regista e da produttore, non da padre. Mike, credo che abbiano rapito Anne. Non fare sciocchezze! 07, inseguo Pontiac Verde! Anne! Anne! Tu non sai a cosa vai incontro, lo so benissimo.